Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta con marmellata di limoni. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, farina di tipo 00, fecola di patate, olio di semi di girasole, zucchero di canna, marmellata di limoni, lievito e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova e ad azionare il bimbi per 5 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere la marmellata e l'olio. e ad azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere la farina, la fecola, il lievito, il sale ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferire in uno stampo da 22 centimetri. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciare raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Torta con marmellata di limoni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!